La prima volta sono stato, hanno fatto una bellezza di 5-6 anni, quasi 6 anni, perché c'è uno sfregge permanente da uno, perché sono morto l'opera, non più o meno. All'epoca quando io facevo i tatuaggi, quando io ascevo la carcerata e volevo il mare, ascevo la cappatoia in cabina, quando ero arrivato il mio suo mare mi facevo il bagno, per raccogliare perché mi parevano i tatuaggi se mi scansavano, se non fuivano la gente, volevano proprio i besti secondo me, per raccogliare. Perché il tatuaggio è una cosa seria, ogni tatuaggio ha un significato. All'epoca c'erano i bastoni perché ero capo a bastoni, ci si faceva il luci, ci si scrive facciamo un colpo di petto, oggi ha gli spiriti. Ci si faceva un tatuaggio che non mi sapevo fare tutto, avevo obbligatorio così, erano umani come tu mangiare un animale, così erano fatte tutto. Io mi sono fatto il tatuaggio per l'NCO, per la fede, perché credevo in questa organizzazione. quest'oggi che ci...? Oppure si quelscholo? Vaporato! Grazie.